Vediamo come creare un utente esterno su Netflix andare nella sezione studio utenti esterni nuovo utente in alto a destra e completare i dati più dati si hanno, meglio è ma è importante completare i dati con l'asterisco La funzione utente esterno è utile per esempio per creare un accesso esterno ad un nostro cliente e far seguire così i progressi di una pratica e fare anche in modo che l'utente esterno o il cliente in questo caso possa inserire anche dei documenti che mancano all'interno della pratica Se si abilita documenti come dicevamo in precedenza l'utente esterno può caricare all'interno della pratica lui assegnata anche i documenti Invia credenziali ci permette di inviare alla mail indicata le credenziali appena create Premiamo conferma e l'utente è stato creato Per associare una pratica a questo utente esterno basta andare nel menu pratiche cercare la pratica che ci interessa cliccarci sopra e l'ultima voce in fondo al menu pratica è accessi esterni basta premere sopra andare su seleziona utente esterno e scegliere dall'elenco l'utente che ci interessa in questo caso l'utente appena creato premere su abilita utente selezionato e l'utente esterno creato avrà accesso alla pratica e visto che abbiamo selezionato l'abilita inserimento documenti potrà anche inserire i documenti all'interno della pratica stessa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti